AMD rimanda Ryzen 9000 e il motivo è veramente assurdo. Sempre AMD regala FPS gratis e Asus ha creato un laptop che emana profumo. Ok, queste e altre news nel nuovo episodio di More Than News. Non so se vi ricordate anni e anni e anni fa quando fu lanciato per la prima volta il Kindle, no? Kobo e tutte quelle alternative al mondo cartaceo dei libri. Ecco, uno dei principali problemi che la gente annoverava con questi nuovi strumenti era l'assenza di un profumo come quello dei libri. L'odore di libro nuovo, l'odore della carta vecchia, tutte queste insieme di cose, no? E quindi mi ricordo che la mia professoressa delle superiori una decina di anni fa disse eh, sarebbe bello se qualcuno li facesse con l'odore di carta nuova. Ecco, Asus ha risolto questo problema, non precisamente in quest'ambito, ma il nuovo Adol, se la sono rischiata, eh, una lettera in più. Il nuovo Adol, penso si lega Adol, Book14 è il nuovo laptop che appunto ha la capacità di erogare profumo. Impressionante. È un Adol, Book ed è da 14 pollici. Poi, ovviamente l'hanno chiamato Air assolutamente, non dietro le linee di qualcuno. E monta un 8945H, ma la cosa ovviamente più interessante è che è capace di emanare profumo. Che profumo? Beh, abbiamo l'incredibile scelta tra Rose of Man's Land, non ho idea di cosa sia. Basil and Mandarin. Ok, questo Basil and Mandarin, dai, già è il più normale. Poi, Be a New Hair. Perché comunque, come avrete capito, questa collaborazione incredibile è dedicata al mondo un po' più femminile. Oltretutto è una collaborazione con anche altri gadget, in quanto oltre a questa scatola fighissima, il mouse e tutto quanto, c'è anche la borsa abbinata. Per un prezzo di circa 974 euro. Devo dire che secondo me, dico secondo me, con la moda del K-pop o comunque di tutte queste culture asiatiche in ascesa anche in Europa, a tutti gli effetti, io dico che potrebbe essere un qualcosa che spacchi anche sul nostro territorio. Cioè, alla fine è un po' terribile questa parte qui, che sembrano i peggiori sticker emo di roba del 2008, però il resto, insomma, è abbastanza elegante. Il laptop sembra uscito da un'altra era, ma è pensato per il mercato asiatico, quindi gusti diversi. Questa collaborazione con Anna Sui mette questo disco profumato che trovate nelle bustine che abbiamo visto prima e semplicemente eroga questo odore. Non dura più di tre mesi, però, beh, dopo puoi sempre ricaricarlo. È un'idea carina? Sì. Cioè, nel senso, sapete che ci sono delle persone fissate con i profumi? Mi faceva ridere commentarla. Andiamo avanti, dai. Sempre nell'ambito delle periferiche, PS5 ha lanciato quello che penso sia uno dei prodotti più carini. Se avete avuto modo di mettere mano sulla console, probabilmente avrete trovato preinstallato un gioco gratuito chiamato Astrobot, che altro non è che un platform con questi robottini adorabili che ricorda un po' la storia di PlayStation con varie citazioni e per lo più è un platform molto molto semplice che ci porta a esplorare quelle che sono le funzionalità chiave di PS5. Non che poi le abbiamo applicate più di tanto, però devo dire che io ci ho giocato con grande piacere essendo sin da piccolo appassionato di giochi come Spyro e quindi di per sé molto molto carino. Ora hanno fatto un controller a tema ed è meraviglioso per un semplice motivo. Signori, agli occhietti, ma c'è una cosa importante. Guardando il video sembrerebbe che gli occhietti siano capaci di muoversi e questa cosa mi gasa tantissimo perché se fosse un mini schermo che cambia in base a quello che succede sul gioco io potrei impazzire e comprarlo. Costa circa 80 dollari ed è veramente meraviglioso. Se non avete giocato ad Astrobot, avete una PS5, fateci un pensiero perché è carino. Vi passate quelle 10-15 ore che dura e fate un tuffo nel passato del mondo PlayStation. A me è piaciuto, anche se sono sempre stato un utente Xbox. Ok, andiamo avanti con la prima grossa. Passando invece ragazzi al mondo dell'hardware abbiamo Intel con un annuncio che per la prima volta non riguarda dei processori sotto accusa ma semplicemente processori che devono rilasciare. Arriverà infatti il primo batch di Lunar Lake V a settembre, il 3 precisamente. E stiamo parlando della versione ancora un pochettino ad alta efficienza quella pensata per il lavoro un po' più generale quella qui non serve di avere tanti cavalli ma di garantire lunga batteria. Vorrei ringraziare Videocards per aver messo quello che penso sia l'AD più invasivo della storia e inizia a sovrapporsi al... contenuto. Molto bene. Comunque, Intel Core Ultra 200V, declinazione Lunar Lake. Come potete vedere anche il modello top di gamma non è un processore eccessivo stiamo parlando di un PL1 e PL2 da 30 Watt quindi come vi ho detto prima dedicati all'alta efficienza. Monta come GPU una 140V e come potete vedere è semplicemente un 4P Core e 4E Core nel modello proprio più potente ma questa configurazione in realtà è condivisa da tutta la line-up fino al Core Ultra 5 226V. Posso dire nuovamente che questi nomi Intel sono... AMD si è impegnata con Ryzen 9 i300 HX però voi siete più lineari, questo sì, ve lo concedo però comunque sono complessi questi nomi. Allora, se devo essere onesto, come utente io fatico a capire l'esistenza di molti di questi processori cioè nel senso che 268, 266, 258 e 256 tolto un po' la frequenza della GPU e del processore stesso e tolto il supporto in termini di memoria fatico a capirli, fatico molto a capirli cioè sono molto molto civili, mi sembra proprio una scissione artificiale del prodotto. Tolto questo potete vedere che hanno dei Tops che vanno da 40 a 48 come annunciato già per Lunar Lake appunto e sono curioso di vedere più che altro questa GPU integrata la 140V e la 130V anche qui nome ancora più simile a quello del processore è difficile da capire Intel, è difficile da capire le vedremo al 3 settembre a proposito di annunci, a proposito di annunci a proposito di annunci vorrei fare una piccola lode a Sapphire perché di recente si stanno interessando del mondo del fare custom dedicato al mondo dei videogiochi principalmente in Asia, come sempre però alcune arriveranno anche sul nostro mercato ovvero prima di tutto abbiamo questa che devo dire design abbastanza stealth forse non mi fa impazzire perché non è molto particolare almeno non riesco a capire bene la denotazione e la direzione del gioco però è la Delta Force Hawk Hopes Edition cioè è dedicata a questo gioco che non conosco però design da 2.5 slot e monta una RX 7700 XT con Navi32 ok, 3456 core e 12 GB di VRAM da GDDR6 ok ma in realtà quelle che mi ispirano particolarmente vabbè tolta questa di Once Human che sembra semplicemente un backplate custom che ti fai fare aftermarket su Aliexpress questa di Frostpunk è molto molto strana nel senso che mi piace la parte posteriore nuovamente sembra un aftermarket custom però prende questa delineazione verso il bianco che come potete vedere è un pochettino contaminato dalla parte nera come appunto ruggine come appunto quello che è l'intento del gioco molto 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 bello e poi appunto c'ha FP2 Frostpunk 2 sopra carina la base è una Sapphire Pure ma passiamo alla notizia che tutti state aspettando AMD finalmente ci ha regalato nuovi FPS questa volta molto più stabili e con tante novità e soprattutto un supporto nettamente più esteso qualche tempo fa vi ho parlato della FMF una tecnologia di AMD che permette di implementare quello che è il mondo della frame generation lato driver molto semplicemente quello che realizza è la possibilità di moltiplicare i propri FPS senza sforzo e soprattutto senza dover implementare niente lato sviluppatore il primo approccio di questa tecnologia sicuramente è stata una cosa interessante perché ha rivitalizzato tante schede anche un pochettino più vecchie ma soprattutto ha dato anche magari a Dell'Arden un pochettino più vecchio la possibilità di affrontare qualche gioco tuttavia non mancavano giustamente le lamentele la prima versione della FMF aveva un problema principale secondo me almeno da quella che era stata la mia esperienza cioè che muovendosi in maniera un pochettino affrettata insomma muovendosi in giro velocemente per questi giochi soprattutto con la telecamera si notavano dei cali di FPS molto importanti cosa che fondamentalmente era derivata dal fatto che la FMF appunto come tecnologia si disattivasse in presenza di questo movimento l'hanno risolto la FMF 2 tra le altre cose risolve questo problema poi come altre migliorie abbiamo vabbè la parola intelligenza artificiale e ti pareva mamma mia ce l'hanno messa pure nei processori ma adesso ovunque va bene va bene hanno migliorato la smoothness la fluidità di questa frame generation che è una cosa importante perché c'erano dei dubbi sulla reale applicazione di questa frame generation cioè non sembrava poi così irreale magari non cambiava la vita però non sembrava che ci fosse il doppio degli FPS almeno nella mia esperienza poi hanno aggiunto due modalità per diverse risoluzioni con lo standard high e standard ma in realtà secondo me la cosa più interessante qui è che hanno migliorato l'ottimizzazione per dispositivi a bassa potenza sapete di cosa stiamo parlando? proprio di lei una Endeld perché alla fine monta Z1 Extreme e montando quel SOC ha sopra a bordo una 780M e che è molto 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 interessante perché ovviamente abbiamo bisogno di prestazioni extra sull'Endeld soprattutto lato software non devono consumare di più ma ci devono dare più FPS l'ottimizzazione è sempre benvenuta oltretutto sull'Endeld voglio preparare un video particolare magari arriva dopo l'estate secondo me però gli aggiornamenti più interessanti sono la compatibilità con quasi tutti i giochi borderless full screen perché onestamente è una modalità che anch'io mi trovo spesso a utilizzare con la FMF1 non si poteva appunto utilizzare il che è male poi compatibilità totale con tutte le tipologie di API e questo vuol dire che hanno aggiunto Vulkan e OpenGL che onestamente ha molto molto senso ci sono giochi che su AMD girano meglio con OpenGL o Vulkan e questo ulteriore beneficio non farà che giovare per vecchie schede video insomma stanno aumentando la vita dei loro prodotti notevolmente bravi AMD e infine secondo me la cosa più interessante è che hanno ridotto la latenza perché uno dei problemi principali con la frame generation è quello in Cyberpunk almeno per i test di prima mano ci dicono meno 28% e per quanto riguarda Counter Strike 2 meno 12% ovviamente rimaniamo ad aspettare i test di terze parti vorrei testarlo io ma purtroppo abbiamo una schedula abbastanza avanzata ma sono sicuro che saranno già usciti 147 test quando esco con questo video quindi molto bene sempre parlando di AMD oggi 31 luglio quando sto registrando voi magari lo vedrete domani effettivamente sarebbero dovuti uscire Ryzen 9000 ma perché non li abbiamo visti? fa abbastanza ridere sta circolando su internet questa notizia con questa foto notate niente di strano in questo processore i più attenti giustamente diranno che questo non è un Ryzen 9 perché è un 9700X e quello è la nomenclatura dedicata ai Ryzen 7 esatto a quanto pare tutti quanti sta reportando questa notizia che AMD abbia richiamato i propri processori Ryzen 9000 perché hanno appunto questo possibile errore non si sa su quale scala sia stesa questa cosa però al tempo stesso fa un po' sospettare che l'abbiano deciso di fare proprio in prossimità e subito dopo l'annuncio ufficiale di Intel che appunto abbia risolto i problemi di microcodice che stanno affliggendo i suoi i7 e i9 ora secondo me AMD voleva tardare un pochettino così nel caso in cui qualcuno testasse gli i7, gli i9, gli i5, i tredicesima, i quattordicesima generazione contro i suoi Ryzen con magari il microcodice che trattenga qualche FPS in più i suoi processori ne usciranno meglio tuttavia volendo spezzare una lancia a favore di AMD c'è da dire che comunque il 9600X e il 9700X usciranno l'8 agosto ed essendo gli i5 la categoria meno afflitta dal problema del microcodice d'Intel di per sé potrebbe essere semplicemente che abbiano dovuto rimandare perché genuinamente hanno sbagliato a scrivere i nomi sui processori e dovevano controllare dove fosse e quanto fosse steso il problema diamo fiducia? beh, non mi sento mai dare fiducia a un brand però è come ogni tanto ci si prova ad ogni modo 8 agosto i piccolini 15 agosto quelli grossi staremo a vedere ho il dubbio che Intel non ne uscirà poi così male cioè se non a livello di nomea però dalle prestazioni secondo me non se la caveranno malissimo SK Pynex ha annunciato che la produzione massiva del GDDR7 ad alta efficienza inizierà nel Q3 del 2024 a livello tecnico a noi interessa per più motivi nel senso prima di tutto ovviamente come ogni nuova generazione di memoria ci sono dei miglioramenti per quanto riguarda la potenza nuda e cruda si punta infatti in termini di bandwidth ai 32 gigabit al secondo con 40 come obiettivo finale praticamente più del 60% rispetto alle GDDR6 SK Pynex afferma che queste memorie saranno capaci di processare fino a 1.5 tera di dati al secondo considerate che le GDDR6X nella 4090 che è una delle schede video più potenti al momento in circolazione ha 1.01 terabyte al secondo quindi è un 50% netto in più di bandwidth semplicemente dalle memorie molto interessante e infine rispetto alle GDDR6 sono più efficienti fino al 50% il che è molto positivo a noi serve roba più efficiente dobbiamo ridurre i consumi sotto ogni aspetto oltretutto 74% in meno di resistenza termica il che è molto molto interessante considerato i problemi che ci sono stati con appunto le GDDR6X belle calde, belle calde interessante parlando di cose che scaldano ma lo vogliono fare in maniera diversa qua abbiamo una ASRock che è una scheda video completamente passiva guardate qua un vero e proprio blocco di metallo una 7900 oltretutto la nuova serie di ASRock di cui abbiamo questa immagine punta alle due top di gamma 7900XT e 7900XTX il che è veramente notevole perché sarei curioso di sapere in che condizioni possono essere dissipate cioè quanto è forte sto dissipatore ho genuinamente la curiosità di mettere le mani su questo prodotto perché dissipare una top di gamma in questa maniera per me è impossibile non riesco a capire come sia una cosa minimamente tangibile però staremo a vedere onestamente sono molto curioso fiducia ad ASRock fino a che non vedo il prodotto finale non voglio screditarli e infine una notizia veloce su Nvidia a quanto pare il brand potrebbe rilasciare una 4070 con memorie GDDR6 non 6X come la versione attuale quindi la situazione attuale sarebbe un chip uguale quindi sempre a D104 non si sa però che versione cioè potrebbe non essere la 250 dell'attuare 4070 non si sa niente sui CUDA Core però dovrebbe montare appunto GDDR6 al posto di GDDR6X questo perché Nvidia vuole scalare la produzione e spostare le GDDR6X a interesse soltanto del top di gamma dove ovviamente ha una remunerazione maggiore e un maggiore interesse di mercato vista la presenza del grandissimo interesse nel mondo dell'intelligenza artificiale ragazzi fatemi sapere le vostre opinioni su queste news giù nei commenti noi ci vediamo al prossimo video voi state su Mordentech ricordatevi che commenti, like e iscrizioni sono sempre grandissimi oltre alle vostre opinioni che leggo sempre un grande piacere noi ci vediamo al prossimo video voi state su Mordentech Sanusa